L'opera lirica è spesso considerata una passione per pochi e difficile da far apprezzare ai più piccini. Con il prossimo webinar su tecnica della scuola vedremo come realizzare lezioni motorie adatte ai bambini attraverso le quali raccontare e interpretare le trame delle opere liriche più famose. In modo coinvolgente i bambini impareranno a conoscere le affascinanti storie delle opere liriche, i loro personaggi, la musica. Con un approccio leggero a misura di bambino trasformeremo le opere liriche in giochi di movimento e anche in un'occasione di approfondimento culturale e di conoscenza. Ti aspetto al prossimo webinar lirica in movimento